Innanzitutto una precisazione su questo video. I candidati, quasi tutti, tendevano a chiedere conferme di chi partecipasse all'intervista o chi avesse dato una sua disponibilità. Si è sempre cercato di sviare la questione e le motivazioni sono queste. Primo, trovo corretto e opportuno che ogni candidato sindaco decida personalmente la sua scelta assumendosene le sue responsabilità in merito, senza che queste decisioni siano influenzate da situazioni esterne. Secondo, non trovo corretto infondere fiducia a un concorrente, suggerendone magari quanti ne abbiano partecipato o meno, perché ad esempio il primo concorrente sarebbe stato svantaggiato, da un punto di vista psicologico, e l'ultimo invece, sapendo che tutti gli altri l'avevano fatta, sarebbe stato ancora di più rassicurato, quindi avrebbe realizzato le interviste in maniera più serena. Ed ora andiamo a presentare le interviste. Quelle che vedremo qui di seguito sono le interviste realizzate sempre nell'ambito delle elezioni politiche. Questa qui è la domanda finale che mi sono riservato, visto le voci che giravano. Ho voluto fare chiarezza sulla questione. L'unico filmato che manca in merito è quello di Terrenzi, che non ha dato la sua disponibilità della sua intervista in toto. Questo perché ha pregato di non pubblicare l'intervista nel caso non fossero presenti tutti i candidati. Nell'intervista afferma di aver interloquito con alcuni candidati nel periodo precedente all'intervista a lui realizzata. Questo cercando di non fare nessun riferimento a persona specifica. Lui non ha mai citato nomi. Comunque sia, dal mio modo in cui è posta la domanda, se ne deduce che ha sicuramente contattato Zallocco ed altri candidati. Ma questa è solo una mia opinione per come io ho posto la domanda. Lui non ha detto ufficialmente Zallocco. Le telefonate avevano come contenuto in discussione la garanzia che gli argomenti trattati fossero uguali per tutti, compresi i tempi. Questo per garantirne la correttezza, lui dice. Di fatto Terrenzi si preoccupa molto in linea generale su questa intervista, si preoccupa molto per il modo in cui questa intervista verrà realizzata. In particolare si raccomanda dell'uguale trattamento tra tutti i partecipanti, sia per il tempo accordato, sia per la partecipazione degli stessi. Adesso mi riserva una domanda. La domanda è, mi può schierare la sua versione in base alla vicenda delle telefonate? Sicuramente avrà sentito, ci sono tra virgolette tre assessori, tra Terrenzi, lei e Paride, che ci sono stati dei giri telefonate e addirittura ho sentito, tra virgolette, di voci, chiamiamole, come si dice, voci fuori coro, di essere stato additato e quindi l'intervista è stata ritardata apposta perché ci sono stati degli accordi per non fare questa intervista. Lei sa qualcosa in merito? No, io ho sentito gli altri per sapere se fossero stati contattati, abbiamo detto sì, si valutava l'opportunità perché c'è una situazione strana dove ad oggi chi si candida a sindaco, visto il desiderio di antipolitica, sembra quasi che possa essere preso, sbattuto da qualsiasi parte, da chiunque. Allora abbiamo detto cosa facciamo? Diamo la disponibilità a chi è giornalista di professione oppure come ci viene richiesto qualsiasi tipo di intervista ci muovono. Quindi questo è stato solo il contatto e solo per sapere se qualcuno era stato contattato da qualcun altro. Quindi io tranquillamente ho fatto una telefonata per sapere o comunque anche per capire il punto di vista, quindi dal mio punto di vista non ci sta nessunissimo problema. Ho dato disponibilità, ci ho messo qualche giorno per capire perché volevo valutare la situazione, volevo valutare. Questa sera ci sarà un confronto tra candidati sindaci, non ci sono problemi a confrontarsi, però ecco ripeto, un attimino capire le richieste, come vengono fatte, come bisogna comportarsi, ritengo che sia opportuno un momento di riflessione. Questo è quanto, quindi non ritengo né malizia né altro. Qualche telefonata glielo confermo, non è stata, ma per me non c'è nulla di male, anche perché la cosa di cui mi sento soddisfatto e orgoglioso è che tra i sette candidati sindaci ci sia competizione elettorale ma ci sia rispetto. Lo stesso rispetto che io ho sempre dato ai sindaci alle quali ho fatto opposizione. Quindi questa è proprio una cosa di cui vado orgoglioso, di rispetto alle istituzioni che deve essere scesso da altre visioni della questione. Volevo parlare, se non le dispiace, degli accordi che ci sono stati fra lei, Terrenzi e, ma io adesso la faccio in generale, lei Terrenzi e Orsini per quanto riguarda la mia intervista, che ha creato, non ho capito cosa. Cioè, lei ha visto delle difficoltà nella mia intervista, sono stato cattivo con lei? Guarda, io, ripeto, con Terrenzi non ci ho mai parlato in questa intervista, o a meno che non me lo ricordo se c'ha parlato o no. Invece con Orsini posso dire che mi ha chiamato Rossano per sapere quando io avrei fatto questa intervista. Io gli ho detto che avevo risposto a una tua email, ma non io direttamente, chi gestisce il sito, ma non mi era stato ancora comunicato quando era possibile farla. Rossano mi ha detto, guarda, adesso mi informo io, poi probabilmente ha avuto da fare e non ci siamo sentiti, ma niente. Con Terrenzi non mi ricordo io di aver parlato di questa cosa. Se adesso lui me l'abbia detto, velocemente incontrandomi da qualche parte, ma non penso. Invece con Rossano posso dire che mi ha telefonato lui. Mi scusi, una curiosità sola. Cioè, o non andiamo per un'intervista, lei andrebbe a chiamare un suo concorrenza, ad esempio Terrenzi, non lo so, il Movimento 5 Stelle, Valentini, per dire, oh, tu la sei fatta l'intervista. Cioè, che cosa pensa di questa? No, io credo solamente, no, io non lo so, perché io penso in buona fede che mi abbia chiamato, forse Rossano, per sapere di che si trattava, non ci mancherebbe altro. Io non lo chiedo, ma io però può essere pure che non lo chiedo, perché alla fine non devo temere nulla, perché è un'intervista, ma io dico sempre come la penso, non ho niente da nascondere, ma non perché gli altri ce l'abbiano, però non ci vedo niente di male, non penso che me la metterai sul sito a luci rosse, no? Quindi non lo so, perché io penso che me l'ha chiesto per curiosità, per sapere di che si trattava. Io sono aperto con tutti, contrariamente di quello che si potrebbe pensare, ma non penso che si pensi, do la possibilità a tutti, perché ognuno è giusto che indaghi e scavi sulla vita di tutti, e poi basta che si riporti la realtà, mi raccomando sempre a questo, e che se ne faccia a buon uso. Con Rossano sì, è vero che ci ho parlato perché mi ha chiamato lui, Terenzi, io su questa storia dell'intervista non ci ho proprio parlato, che lui dica che ha avuto un accordo con me, non è vero, perché devo dire una bugia, dico che Rossano mi ha chiamato, con lui non ci ho, guarda, o non me lo ricordo, ma... L'unica cosa che mi sento di dire alla fine, io sono certo che nessuno ha indito o l'ha fatto un gattiere, anche perché siamo tutti quanti in buonavere, il problema è che la campagna elettorale è quello che è, ci stanno tante voci, tanto, come si dice, tanto casino che ne passano tante tutti i giorni, che sicuramente sarà stata qualche, come si dice, disguido, oppure... No, no, però io non ho avuto nessun disguido, guarda, io te lo dico, perché l'ho fatta, mi dispiace che stamattina mi ero impegnato, però ti dico, con Rossano c'è il giovane, ma poi non c'è niente. Allora, qui ho avuto difficoltà, iniziamo per delle voci che sono circolate, cioè quello che... A me è venuta, a me è venuta sentata questa voce dicendo che c'erano delle situazioni non chiare dietro questa intervista. Che significa delle situazioni non chiare? Lei l'ha detto che c'era un ragazzo con mania di pluralismo, che serve? C'era questo protagonismo, che c'era questo, basta, non so, il merito non è che andrà questa persona, cioè c'era anche una situazione per cui non avevi indietro, forse, alle spalle, un ruolo di trasparenza per cui era sempre assicurante fare questa intervista. Ho capito. Non so adesso i mezzi di infusione, o altro, o altro. Una cosa, le persone da cui ha sentito queste voci, sono anche candidati sindaci? Per correttezza. Ah, ok. Però sono persone che sono nell'altra. Ok. Ed ora, infine, un piccolo sunto del comportamento di tutti quanti i candidati alla mia richiesta di intervista, anche quelli che non abbiamo visto in video. Allora, Sabatini. Ha detto subito che non poteva per lavoro, ha tenuto a precisare che lui non campa di politica, ma per guadagnarsi a vivere deve lavorare. Non so se ha ricevuto telefonate da altri in merito alla vicenda. Platano. È stato il primo ad essere intervistato. Appena ha raggiunto telefonicamente, mi ha dato subito il consenso, e l'intervista è stata realizzata il giorno dopo. L'intervista è stata fatta tempo prima rispetto agli altri, e quindi non ho riscontrato nessun problema e non me lo sono nemmeno posto, diciamo, la questione. Valentini. Appena parlatoci di persona, è stato subito disponibile, e la sera stessa abbiamo realizzato l'intervista. Una piccola curiosità su Valentini. Mi ha chiesto se dovevo essere retribuito e di quanto per il servizio che stavo svolgendo. Come Platano, mi è successo in pratica che l'intervista è stata fatta molto tempo prima, e non avendo riscontrato nessun tipo di ostentazione o comunque sia difficoltà, non mi sono posto il problema. Adesso un piccolo riassunto dei contenuti delle conversazioni che abbiamo sentito. Si fa solo notare, prima di cominciare, che queste persone si conoscevano, perché hanno fatto parte dell'amministrazione precedente. Terrenzi. Telefonate atte a garantire l'equità dell'intervista. Questo stando attenti alla durata del filmato e che tutti siano presenti. Orsili. Orsili si valutava l'opportunità, quindi ha discusso, di dare l'opportunità di fare interviste a chiunque o solo a chi ha autorizzato. Chi ha parlato con lui ha discusso di questo. Zallocco. Dice che Rossano lo ha chiamato per sapere quando ha fatto l'intervista. Zallocco pensa, da come parlava Rossano, che forse lo ha chiamato per sapere di cosa si trattava. Mariani, gli è venuta questa voce di situazioni non chiare nei miei confronti. Gli è stato descritto un ragazzo con manie di protagonismo. Pensa che questa situazione si sia creata forse perché alle spalle non ho un alone di trasparenza, per cui non era rassicurante fare questa intervista. Appena contattato telefonicamente, abbiamo discusso di cosa si trattava ed una volta che ha capito quali erano le mie intenzioni, ha fatto l'intervista la sera stessa. Grazie.